Un altro modello della Benchmade, questo è il 755 MPR, mini pocket rocket, modello disegnato da Silbert e un piccolo EDC anche se di notevole spessore. La cassa è in G10 in parte e titanio, come vedete la parte che blocca, dove c'è il liner, è in titanio, coperto da una piccola guancetta sottile in G10 verde, la clip è anch'essa in titanio, sistema e frame block, gli spessori sono alquanto considerevoli per le dimensioni del coltello, apribi ad una mano, la lama ha una copertura nera, leggera disegnatura nella parte superiore, in questo caso non esiste una presa avanzata date le dimensioni minime del modello. L'acciaio utilizzato è l'M390, un ottimo acciaio da polveri. Il frame come vedete chiude abbastanza bene, inoltre ha un sistema di sicurezza che evita che vada troppo in profondità sulla lama. L'unica cosa che posso dire contro è che il frame è davvero molto leggero a utilizzare, però può darsi che magari sia soltanto un difetto di questo modello che ho io. Benchmade 755 MPR.